Scusate, posso farvi una brevissima domanda? 30 Jahre Frauen Bureau, das ist ein Landesbüro für Beirat für Chance und Gleichheit. Sorgen Sie das, was? Grazie, hallo? 30 anni di Pari Opportunità, Ufficio della Donna Provinciale. Nei, hai già sentito parlare? Assolutamente sì. Sì, direi che c'è la disparità lavorativa, sicuramente sul salario e quant'altro. Und das ist vielleicht auch ein Zutok noch wichtig, leider. Scusate, grazie a tutti. 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 Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.